Dopo giorni di frizioni la Lega entra nella giunta comunale di Pescara, lo ha officializzato ai microfoni del Tg8 l'onorevole leghista Giuseppe Bellachioma. Stamattina mi sono svegliato con una sensazione positiva, sono assolutamente convinto che probabilmente tra oggi e domani Pescara avrà la giunta al completo. Benissimo, quindi questo ci anticipa, possiamo dirlo, la Lega sarà rappresentata come è chiesto nell'esecutivo comunale? Assolutamente sì. Nelle prossime ore dunque saranno sciolte tutte le riserve, la giunta comunale del sindaco Carlo Masci sarà al completo anche con il sostegno dei salvignani. Per l'assegnazione delle delghe si dovrà attendere ancora qualche ora, sarà necessaria ancora qualche limatura.